Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscrivetevi al canale è gratis sì, vabbè, mi sono appena svegliato però volevo dire solo una cosa rossico rossico male per la vittoria della Roma di ieri però non è quel rossicamento di ciò, ah, bastardi, maledettia è un rossicamento genuino sono contento sono contento per Daniele De Rossi perché ne ha mangiata di merda anche quando è stata alla spalla l'hanno sputtato tutti quanti i rossi non meritano nemmeno è in panchina solo perché si chiama De Rossi ha vinto con la Roma il mondiale De Rossi vi sta vi sta umiliando a uno a uno tutti in fila, uno dietro l'altro tu vi hai detto che sono una chiavica uno, due, tre, tutti dietro l'altro vi sta umiliando tutti ieri la Roma è andata a Udine è ritornata a Udine dopo il caso Undica la Roma se ne ritorna da Udine con una vittoria pesantissima una vittoria pesantissima che io mi auguro possa anche portare a un'eventuale finale di Europa League con l'Atalanta per sbloccare un altro posto in Genova che addirittura potremmo portare dieci squadre a livello europeo la prossima stagione però facciamo corna perché non si sa mai Roccateferro, tifosi della Davante tifosi della Roma e tifosi della Fiorentina perché questa Roma a me casa casa e non poco tanto non vi preoccupate cari tifosi dell'Udinese poi affronterete pure noi lunedì se non sbaglio lunedì ci sarà Udinese Udinese-Napoli ve li diamo noi tre punti per salvarvi non vi preoccupate quindi per quello potete stare tranquilli non vi preoccupate allora la Roma ieri è riendata in campo e tu dici ma secondo me Cannavaro se lo gestirà questo 1-1 Cannavaro non è stato buono a gestirsi un 1-1 18 minuti di partita e tutto questo 18 minuti di partita più il recupero naturalmente e vorrei fare un video per tutti quei tifosi napoletani che hanno detto Cannavaro deve venire a Napoli portiamo Cannavaro a Napoli ecco Cannavaro ora ha 4-5 partite per far vedere cosa cosa potrà fare con quest'Udinese ma a parte che poi l'Udinese non è una squadraccia eh l'Udinese c'è una buona squadra ecco questo lo vorrei dire anche a Samarzic caro Samarzic che tu hai fatto il fenomeno prima con l'Inter poi con la Juve poi con il Napoli hai visto come ti sta andando a finire questo è karma che gira quindi caro Samarzic forse se venivi a Napoli o andavi all'Inter forse era meglio qualcosa avresti fatto quest'anno questa stagione forse perché abbiamo pure la stagione del Napoli con Samarzic non lo sappiamo comunque detto questo ieri la Roma è stata qualcosa di allucinante e l'ho detto anche con la partita del Bologna la Roma ha giocato bene se la vuoi perdere per 3 a 1 però tu vedi questa Roma e dici cazzo ma questi veramente quattro mesi fa erano allenati da Mourinho e stavano in quelle condizioni e oggi sono allenati da De Rossi ed hanno svoltato la stagione in questo modo sì perché la Roma di De Rossi è un qualcosa che ti entra dentro immagini di Fossi della Roma euporici no? per questa vittoria all'ultimo secondo poi ora verranno a Napoli domenica alle ore 18 io già sto già sto pieno di ansie per colpa di di De Laurentiis di Calzona e via discorrendo ecco Agiu questa è una cosa che deve far riflettere sinceramente deve far riflettere molto a Reggio De Laurentiis perché se tu prendevi un un allenatore che era un pochino più preparato sia di Mazzardi sia di Calzone ma a Mazzardi non gli do colpe perché Mazzardi anzi Mazzardi è forse quello che ti ha salvato un pochino la stagione diciamoci la verità perché ha dato a Calzone una squadra almeno con un piano tecnico a livello fisico degno e non come l'ha presa da 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 Garcia diciamoci la verità ecco l'allenatore è il 70% della squadra voglio fare un applauso ai tifosi ai giocatori della Roma che ieri sono andati sotto la curva dell'Udinese ad applaudire i tifosi dell'Udinese perché sapete tutti quando è successo Antica il fatto il medico della Roma ha chiesto di stare zitti gli ultras dell'Udinese hanno chiesto a tutto lo strano di stare zitti e l'hanno fatto questo è un bel messaggio da far passare quindi togliendo l'odio l'odio è tutto il calcio deve essere questo il calcio deve unire non dividere io la penso così poi mi sbaglierò io la penso così lo sapete quello che penso dico sono contento è rossico male ma non male ve l'ho detto non male da dire a sti bastardi a noi no rossico perché la Roma ha trovato un buonissimo allenatore un grandissimo portiere che è Spilar e ragazzi ieri ha fatto un paratone ieri ha fatto veramente un paratone Spilar questo è forte forte è veramente forte questo portiere qui se lo riescono a tenere per 2-3 anni potrebbe diventare anche uno dei più forti in Italia e forse anche in Europa occhio a quello che vi dico perché questo zitto zitto potrebbe mettere in rica molti portieri in Serie A comunque detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate della Roma e io ve l'ho detto sono contento che la Roma ritorna in Champions League e attenzione al terzo posto perché ora si apre una breccia in quel in quel terzo posto della Juventus e anche la Roma si è inserita occhio occhio come può andare a finire questa lotta questa lotta comunque Rossi comale però sono contento per la Roma andrò controcorrente ma in sfera arrivino in finale vincano anche l'Europa League con l'Atalanta la vinca il calcio italiano deve ripartire da qualche parte deve partire da idee nuove da allenatori nuovi e dei rossi è uno di questi e sono molto contento per lui iscriviti al canale sempre e comunque forza Napoli noi ci vediamo oggi non so se far uscire un video verso le 3 adesso muoviamo un po' muoviamo un po' comunque iscriviti al canale sempre e comunque forza Napoli ciao ciao